Il Dupo De Rossi Mercato Roma, il Dupo De Rossi arriva dallInghilterra Roma, dalla serie B inglese L'erede di De Rossi, le ultime di Cmweb. L'addio di De Rossi ha aperto un buco nel centrocampo della Roma, alcuni intermediari hanno offerto ai giallorossi Anguissa del Fulham, quest'anno retrocesso in Championship. La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. L'addio di Daniele De Rossi ha spalancato la crisi giallorossa, già aperta dalla rivoluzione a cui andranno incontro i Capitolini nel prossimo calciomercato. Pallotta è ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo i rifiuti di Gasperini e Conte, con Petrachi che sta per prendere il ruolo di DS. Tra le questioni da risolvere ci sarà quella relativa al centrocampo, De Rossi non ci sarà più, Zonzi non ha dato garanzie e non ha convinto. Nel ruolo di mediano davanti alla difesa si è aperta una vera e propria voragine, come raccolto dalla redazione di Cmweb, a coprirla potrebbe essere Andre Dambo Anguissa. Roma, il Dupo De Rossi arriva dallInghilterra, offerto Anguissa. La Roma si prepara a unestate rovente. Dalla porta allattacco, ogni reparto è in bilico e pronto a vivere dei cambiamenti profondi. . A centrocampo l'addio di De Rossi ha aperto la caccia al sostituto, con risorse economiche che non potranno essere così estese vista la mancata qualificazione in Champions League. Una buona occasione può arrivare dalla Premier League, o meglio dalla Championship, la Serie B inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di Cmweb, uno dei nomi al vaglio della dirigenza giallorossa è Andre Dambo Anguissa. . Il mediano cameronense è appena retrocesso con la maglia del Fulham, ma non ha nessuna intenzione di seguire in Champions League Cotagers. . Il classe 95 è arrivato lo scorso anno dal Marsiglia per 25 milioni ed è reduce da una buona stagione, anche se è stato costretto a saltare molte partite per un infortunio alla caviglia. Alcuni intermediari lo stanno offrendo a diversi club europei e tra questi c'è anche la Roma. I giallorossi ci pensano, il solo Nzonzi ad ora non offre garanzie e il calciomercato è ormai già iniziato. .